Il vintiaturo al Zalcello di Agnone, la Molise Cup di seconda categoria, superando per 5-3 nella finale del Civitello un ottimo Monteroduni, capace di recuperare lo svantaggio iniziale di tre reti. L'avvio del rosso-blu infatti è bruciante, tre minuti, e Alessio La Selva vede Cristinzio fuori dai pali e lo beffa con questo delizioso pallonetto. All'undicesimo Zauro trova lo spazio per il tiro, Cristinzio respinge, ma nulla può sul tabellino vincente di Jacobucci per il 2-0. Al ventunesimo corner per il vintiaturo, pallone che attraversa tutta l'area piccola con Sauro ben appostato che fa 3-0. Il Monteroduni sembra tramortito, ma al ventiquattresimo abale con questa sforbiciata dal limite che accarezza il pale e va sul fondo dalla sveglia ai suoi. E infatti al trentunesimo Bove tocca di giustezza il traversone di Barile e la riapre con l'1-3. Al trentunesimo avallone divora campo in diagonale, trafigge ancora Nardacchione per il 2-3 con cui si chiude anche il primo tempo. Nella ripresa il Monteroduni alza a gire Bari centro e al tredicesimo abale si invola verso la porta e il Nardacchione lo abbatte. Di Carlo di Termoli indica il dischetto. Sul pallone va lo stesso abale che fa 3-3 e completa la rimonta. La doccia gelata fa bene al vinchiaturo rivitalizzato dall'ingresso di Mariano che al ventiquattresimo va vicino al 4-3 evitato in uscita da Cristinzio che però al ventottesimo nulla può su Sauro che lo supera per il 4-3. Al trentasettesimo altra fiammata del Monteroduni. Buraglini per Bove che va a centimetri dal 4-4. Al trentasettesimo però Mariano mette il punto esclamativo al match assist dalla destra di Sauro e conclusione vincente da pochi metri per il 5-3 che consegna la Coppa al vinchiaturo il quale rende l'onore delle armi ad un maidomo Monteroduni.